Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di TheKillerGame e oggi come noterete questo è il nostro primo video Io sono Hope319, tu sei? Io sono Luke230 Come noterete faremo challenge, vlog epici Beh gameplay tipo GTA GTA V Brink Beh GTA V è Luke e lo abbiamo Poi GTA V, FIFA 15, 14, quelle cose la E poi faremo challenge, fact time E imiteremo molto, cioè molto Imiteremo qualche solo dei video Sì, i youtuber più famosi Tipo FabiJ, CiccioGamer, Joker, Speranza Cazzo significa? Scemo Speranza E allora i nostri nomi significano Hope, Sua e Speranza Il nostro, il mio Luke È fortuna È fortuna C'era un intruso Scusate E poi vi porteremo anche video tipo le cove, la nostra console Tutti i telefoni che abbiamo Ecco E cioè faremo vedere la nostra, come si dice? Facciamo tipo le unboxing E poi le nostre postazioni E Facciamo tipo unboxing delle playstation Dei telefoni Faremo video divertenti, quelle cose la Vabbè Per questo video è tutto Speriamo che vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Ci rivediamo la prossima volta con gameplay o altro Video epici e tutto A presto